Come reagirà il gruppo al clima di eccezionale tensione venutosi a creare in città dopo gli ultimi accadimenti? E' la domanda che attende risposta domenica prossima quando il Pescara scendereà in campo allo stadio olimpico Grande Torino contro la formazione Granata, allenata da Sinisha Mihailovic. Ieri intanto un segnale lo ha in qualche modo lanciato lo stesso presidente Daniele Sebastiani, il quale, a poche ore dall'azione intimidatoria subita, ha comunque presenziato alla seduta di allenamento la prima settimanale. Un po' come dire che nonostante tutto c'è la volontà del numero uno del Delfino di restare in prima linea, rassicurando i giocatori che possono e debbono restare concentrati sull'obiettivo del match. Eventi del genere, dopo tutto, possono ricompattare un ambiente lacerato dai risultati negativi dall'ultima disfatta con la Lazio e contro il Toro è lecito attendersi una prova d'orgoglio. Nel corso della settimana si capirà se ci sono possibilità di vedere in campo l'ex Cesare Bovo, che aspetta ancora di debuttare in biancazzurro. È rientrato in gruppo coda e quindi il tecnico Odo può pensare di nuovo ad una difesa a tre che può in parte compensare gli evidenti limiti nella fase difensiva che si sono riproposti nell'ultima gara. Da valutare anche se il francese Baibach supererà l'affaticamento muscolare, di cui è stato vittima nelle ore antecedenti la gara con la Lazio. Quasi certamente darà ancora forfè Alberto Gilardino. Per tutta la settimana i tesserati del Delfino non rilasceranno dichiarazioni. Isolarsi dalle polemiche è la strada scelta per ritrovare un po' di serenità in vista dei prossimi impegni. Sul fronte Torino mancheranno a centrocampo Baldi, Fiori e Baselli. Al posto dell'ex empolese, Mihailovic è pronto a lanciare in regia il serbo Sascha Lukic. Per Baselli la principale alternativa sembra essere il ganese Acqua, che potrebbe essere buttato nella mischia a pochi giorni dal rientro dalla Coppa d'Africa.